In carcere da settembre, Merto Milani, 28 anni, residente nella Bergamasca da pochi mesi, ma ha cresciuto con la famiglia Traolginate e Carolzio Corto e continua a non parlare. A rafforzare le accuse nei suoi confronti, la relazione conclusiva del medico legale è depositata nelle scorse ore. Laura Zigliani, la vigilessa uccisa temuta il 7 e l'8 maggio scorso, è stata narcotizzata con ansiolitici soffocate e poi sepolta lungo le sponde dell'olio. L'autopsia sembrerebbe dunque confermare la ricostruzione dei carabinieri e le accuse contro le due figlie, Paola e Silvia Zani, e il fidanzato Lecchese della Maggiore in carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Ci sono voluti mesi per dipanare ogni dubbio e una proroga proprio per procedere con accertamenti specifici. Nelle 100 pagine della sua relazione definitiva, Andrea Verzelletti, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Civile di Brescia e consulente del PM, Katie Brestanelli, conferma Laura Zigliani sarebbe stata prima stordita con farmaci ansiolitici, rilevate in quantità di per sé insufficiente a cagionare il decesso diretto e resa quindi incapace di difendersi, poi soffocata in modo non violento, probabilmente nel sonno, con un cuscino, infine sepolta. Il ritrovamento del corpo ad agosto nel gretto di un torrente lungo l'argine dell'olio, dove la piena causata dalle nubi fragili ai giorni precedenti, avrebbe smosso la terra al punto da far riaffiorare il cadavere. Indossava solo canotta e slip, un abbigliamento incompatibile con la presunta escursione che Laura, stando alle figlie, avrebbe fatto la mattina della scomparsa. Un delitto frutto di un piano lungo premeditato, si legge nell'ordinanza del GIP Alessandra Sabatucci, i tre avrebbero avuto un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Zigliani nell'amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare per risolvere i rispettivi problemi economici. Mirto Milani, nato a Lecco, residente prima a Garlate e poi a Alginate, infine a Corozio Corte, si era trasferito da poco a Roncolo San Bernardo, nella Bergamasca, dove è stato arrestato la mattina del 24 settembre. Laureato in psicologia, ha frequentato l'Istituto Rota e studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Silvia e Mirto si erano conosciuti una decina di anni fa durante una vacanza a studio nel Regno Unito.